Allora Silvano dalla misura dei caricatori, guardandoli praticamente dal vivo, la misura minima dovrebbe essere intorno a 400, la misura massima sui 3 metri e 50, considerato che i carrelli, il carico e lo scarico hanno la possibilità di fare sporgere i pezzi da una parte o dall'altra. Questa è la spostatrice, la macchina è non utilizzata o comunque spenta da 6-7 anni. Gli accessori, ci sono questi carrelli che si vedono lì, ce ne sono 4-5 e poi dovrebbero avere tutta una serie di mole.